Niente dad per gli studenti di San Cataldo. I commissari comunali hanno risposto picche alle richieste che qualche giorno dietro sono arrivate dai rappresentanti dei genitori delle scuole. Gli studenti frequenteranno in presenza fino alla prima media come previsto dal decreto legge Draghi che regola le norme da applicare alle zone roste. Il resto è dad. La conica la risposta della commissione straordinaria che con una nota raccomanda di evitare gli assembramenti dinnanzi alle scuole consiglia di implementare i servizi di vigilanza, di differenziare l'ingresso in entrata e in uscita degli studenti scolastici per gli studenti, di raccomandare la pontualità di ingresso e di uscita per i genitori e null'altro.